Magli e Cimeli di squadre della serie A, B e anche Lega Pro all'asta in favore di Casa Tevenin. L'iniziativa benefica organizzata da Dimitri Pasqui in collaborazione con lo staff della Casa dell'Energie e Casa Tevenin è in programma per il prossimo 29 giugno. Alle ore 20 e 30 inizierà questa maratona di vendita di materiale sportivo in collaborazione con la fondazione Tevenin di Arezzo Ollus che poi tra l'altro è una realtà importantissima perché connessa anche con l'Istituto Agliotti quindi ha anche un'importante ricaduta sull'istruzione in questa città attiva sin dai primi del Novecento. e quindi si va a continuare verso quel filone di socialità e di solidarietà che poi è anche uno dei filoni principali che ha caratterizzato Casa dell'Energie in questi primi anni di sviluppo. Si va verso il periodo estivo delle vacanze, voi andate in vacanza o no? Presumo che invece sia proprio il periodo per gli eventi forse anche più florido. Sì, diciamo di sì, avremo uno stop soltanto nella seconda parte di agosto però ci aspettano tanti eventi da qui fino a quel termine insomma quindi saremo molto presenti anche in questo periodo estivo.